e pre partita di questo Pescara rapido latina in compagnia del presidente Gianluca Lastarza grande occasione primo anno si è confermata il la formazione pontina con la permanenza nella massima serie ha ottenuto anche il primo turno dei playoff beh sì per come si era messo l'inizio di campionato era una speranza che era diventata veramente molto molto flebile poi nelle ultime due giornate ma già nel giro nel ritorno la squadra aveva dato segnali importanti di crescita aveva iniziato a prendere diciamo quelli che erano gli insegnamenti del mister Basile quindi abbiamo iniziato un po' tutti dopo la salvezza a farci un pensierino e per fortuna ma anche per merito dico io siamo riusciti a centrare questo obiettivo che veramente è il giusto coronamento di un lavoro che si è iniziato tanto tempo fa e che quest'anno grazie anche ripeto all'impegno dei ragazzi siamo riusciti a raggiungere ecco il diktat principale già ripetuto nel corso di questa settimana mai domi mai paura di nessuno si è richiesta proprio a gran voce da più parti la presenza forte al pala bianchini per sostenere per essere l'uomo aggiunto in campo a questa formazione sì noi non finiremo mai di ringraziare tutti quelli che vengono a sostenerci in occasione delle partite oggi credo immagino che ci sarà forse nemmeno i posti per stare in piedi e la testimonianza di di quello che siamo riusciti a fare al di là sotto l'aspetto tecnico anche raggiungendo il cuore di 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 questa cittadinanza che ha capito gli sforzi che facciamo per tenere in alto i colori nerazzurri e dico che quando si fa sport a certi livelli bisogna comunque riconoscere i meriti di una società e di un team bene grazie al presidente la star sign in questa grande attesa c'è già forte emozione proprio sul sul suo volto ma stiamo attendendo anche l'arrivo del direttore sportivo anche cristiano marteddu un'ultima battuta prima del fischio d'inizio a questo punto ma guarda noi su una cosa penso che posso scommettere che metteremo in campo veramente tutto l'orgoglio e tutto l'impegno possibile sappiamo di affrontare una squadra che classifica sotto mano insomma ha dimostrato il suo valore però vogliamo giocarcela vogliamo giocarcela fino in fondo e poi quello che verrà solo dio lo può sapere bene grazie al presidente lo lasciamo quindi al raggiungere anche la squadra nello spogliatoio ci sarà raggiungendo proprio cristiano marteddu buonasera marteddu grossa occasione qui per latina primo anno di stagione con nella massima serie raggiunta la salvezza matematica ma si è raggiunti anche i playoff siamo andati oltre le nostre aspettative perché noi avevamo programmato di fare un campionato per riuscire a raggiungere quanto prima la salvezza ringraziando ci siamo riusciti e grazie anche al sacrificio fatto da tutti quanti i componenti della società dei giocatori e tutto quanto abbiamo portato a termine un una missione diciamo che era oltre le nostre aspettative la qualificazione playoff ecco adesso numeri alla mano pescara che ha tagliato per primo il traguardo anche se poi a raggiungere il traguardo quello più importante è il tricolore una squadra comunque ben dotata se se dovessi togliere qualcuno a questa avversaria di turno chi andressi a togliere? Beh guarda il pescara ha un roster non indifferente quindi stiamo parlando di una squadra attrezzata per la vittoria finale quindi per il raggiungimento di questo famoso tricolore e i giocatori ce ne hanno talmente tanti che dovrei fare proprio una lista lunghissima da togliere. A questo punto ti facciamo una una domanda opposta ma questo latina ha anche dei numeri forse segreti magari mai svelati nel corso della stagione potrebbe essere la mina vagante di questa torneo post campionato? Guarda io credo che a questo punto della stagione visto questa qualificazione ai playoff penso che noi potremmo essere veramente la mina vagante di questi playoff perché sinceramente non abbiamo quasi nulla da perdere quindi giochiamo senza l'impegno costante della vittoria quindi può darsi che questa cosa qui ci possa agevolare nel corso di questi playoff. Bene grazie Martedulo lasciamo anche lui a raggiungere lo spogliatoio per il momento è tutto intanto va riempendosi man mano il pala bianchini tra non molto inizieremo con il corso gara 1 tra rapido latina e pescara calcio a cinque grazie a tutti grazie a tutti